Sono 22 gli avvisi di chiusura e indagine notificati ad altrettanti ex componenti degli ultimi due CDA di Banca Etruria e alcuni dirigenti dalla Procura di Arezzo nell'ambito del primo filone di inchiesta, quello relativo alla bancarotta fraudolenta. Tra di loro ci sono gli ex presidenti Giuseppe Fornasari e Lorenzo Rosi. I finanziamenti sono quelli assegnati per un cantiere navale a Civitavecchia, al cementificio Sacci, alla Isoldi, alla Pegasus, alla Eichfanzing, alla Castelnuovese e alla San Carlo Borromeo. In particolare la Guardia di Finanza ha notificato gli avvisi di chiusura e indagini a quegli amministratori che hanno deliberato i finanziamenti sui quali la Procura ha già chiuso le indagini anche se, secondo quanto si apprende, altri sarebbero in questo momento sotto la lente ringrandimento dei uomini della Guardia di Finanza. Oltre agli ex presidenti Giuseppe Fornasari e Lorenzo Rosi, le notifiche hanno raggiunto anche l'ex vicepresidente Giovanni Inghirami, Giorgio Natalino Guerrini, Augusto Federici, Rossano Soldini, Alberto Rigotti, Laura Del Tongue e l'ex direttore generale Luca Bronchi. Mentre non compare tra i destinatari dell'avviso di conclusione indagini Pierluigi Boschi, padre dell'ex ministro Maria Elena Boschi. L'avviso di chiusura indagini è un atto che consenta agli indagati di proporre memorie o di richiedere un interrogatorio per chiarire la propria posizione in vista dell'udienza preliminare che deciderà in merito all'eventuale rinvio a giudizio.